Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, oggi andremo insieme allo Shutter Pub ad assaggiare il porco burger Ciao io saluto, bella combi Sproviamo a fare sta imprese Ok raga abbiamo ordinato il porco burger, abbiamo fatto battere il cronometro Che resta dentro i minuti sempre fatto Ragazzi è arrivato il panino E' enorme sto panino Questo ragazzi è il porco burger e questo è il porco maiale È sghere 17 minuti e 25 noi qua iniziamo a mangiare Buon appetito Ragazzi guardate questo è più grande della mia faccia Qua non ho scritto E' enorme zio Qua non ho molto Mmm Mmm Buon appetito Buon appetito Buon appetito se ne posate vai di posate e poi non ci sono seccati raga alla grande ragazzi ci siamo seccati di sto panino e ora andiamo pronti alle votazioni bella Claudio allora come è andata questa cena come ti è piaciuto come ti è sembrato questo pannozzo direi molto molto buono di tuo gradimento una bomba una bomba colossale un po' pesante da dire ci siamo spaventati all'inizio però però le birre hanno aiutato e ora ci vuole il digestivo adesso il sambuchino ci vuole per mandarlo giù ok ragazzi ci vediamo alla prossima 4 e 20 ciao 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 Grazie a tutti